Io sono Piana Guerrino, io sono di Fornero, sono nato nel 35, mia moglie nel 37, ci siamo sposati nel 67 e tiriamo avanti ancora, abbiamo i figli, i nipotini, curiamo il nostro museo che abbiamo recuperato dei nostri vecchi quando riguarda la parte in legno e dell'ultima guerra, della guerra dei partigiani, patrioti, dell'ultima. Conserviamo queste cose qua, stiamo qua, sono arrivati i nostri amici di Milano e vogliono farci vedere anche nel mondo, allora entreremo nel mondo, vi aspettiamo tutti a trovarci, chi ha interesse venga. Noi siamo a Forno, in Valstrona, provincia del VCO, Verbania, Nord Italia, noi abbiamo gli svizzeri qui dietro di queste montagne qua. Venite a trovarci, c'è la polente capretto in primavera, primavera polente capretto, metà in umido e metà con l'arrosto, quello con la puccia si mangia con la polenta e l'altro col pane. Venite a trovarci, via principale 22, volete che telefono? 885133, 0323 il prefisso. E poi ormai chiedere del barbone. Io sono armato ma non vi succederà niente di sicuro, non c'è neanche il cane, perciò potete venire quando, telefonare, telefonare per trovarci a casa. Per le donne ci sarà un tiramisù piccolino caffè latte, e il marito un grappin, se il marito vuole il grappin c'è anche quello. Noi non beviamo per problemi di, in mezzo alle armi se uno beve, dopo gli gira la testa a rivederci Roma qua. Succede la terza guerra mondiale, ma pensa a te. Ciao amore. Benissimo.